In questo lampo ci sono io, Ferdinando Magellano, il primo uomo che ha fatto il giro del mondo. C'è Amerigo Vespucci, il navigatore italiano che ha dato nome all'America, e un meraviglioso vascello dei vostri giorni che porta il suo nome. C'è la ricerca della via delle spessie, la scoperta del nuovo mondo da parte di Cristoforo Colombo. Ci sono gli strani abitanti che vivono alla fine del mondo. C'è il misterioso passaggio che porta il mio nome tra l'oceano Atlantico e l'oceano Pacifico. C'è un immenso oceano di cui non si immaginava l'esistenza. C'è la mia tragica fine su un'isola delle Filippine. C'è la Victoria, la nave della mia flotta che ha completato la mia missione, e alcune curiosità geografiche e climatiche che stupiranno anche voi. Vedrete.